Il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione del comune di Pescara Gianni Santilli è colpito dalla solidarietà dimostrata da tutte le scuole cittadine che si preparano ad accogliere i bimbi profughi arrivati dall'Ucraina. Già alcuni che hanno parenti in Italia e dunque conoscono più o meno la lingua si sono ambientate nelle varie classi. Ora si è in cerca di mediatori culturali e grazie alla sinergia con l'ufficio scolastico provinciale ci si adopera per accogliere al meglio questi piccoli. Santilli precisa che l'aspetto sanitario è fondamentale per far entrare questi bimbi a scuola in tutta sicurezza. Intanto nel centro di Pescara Porta Nuova c'è una lingua universale, quella dei colori e dei disegni. I bambini ringraziano i loro coetanei con fogli e dipinti. Assessore ci sono già dei bambini che frequentano le classi? Alcuni bambini sono già arrivati in quanto hanno delle parentere, dei parenti qua a Pescara e sono già stati inseriti e faccio riferimento al comprensivo 3, al comprensivo 4 e al comprensivo 7. Quindi già sono stati inseriti nelle varie classi perché avendo dei parenti all'interno delle classi non c'è il problema della lingua. Però risolveremo anche questo problema perché integrare questi bambini all'interno delle classi ci sarà necessità del mediatore culturale e questo lo vedremo assieme alla dottoressa Puglisi. Ecco, non ci sono solo bambini accompagnati dalle mamme oppure che si ricongiugano nelle famiglie, ci sono anche bambini orfani. In questo caso come si procede? Allora, con i bambini orfani abbiamo le politiche sociali, questo è un problema ancora più grave in quanto non avendo genitori o parentere dobbiamo fare un lavoro diverso, però non ci va paura questo e cercheremo di risolvere in migliore dei modi. La priorità per noi nell'inserimento di questi bambini è la parte sanitaria. Noi dobbiamo far sì che questi bambini che andranno a scuola dovranno avere tutti quanti il tampone, quindi essere tutti negativi e verificare l'ortato dei vaccini se li hanno fatti o meno. Da quello che risulta a noi purtroppo no. Quindi il primo passaggio sarà proprio il passaggio sanitario e poi assieme ai presidi piano piano li sistemeremo. I bambini sono consapevoli della guerra? I bambini alcuni sanno della situazione, alcuni no e speriamo che non conoscano questa bruttissima situazione. E c'è un appello per i cittadini ucraini presenti in città per aiutare a integrare questi piccoli? Questo sarebbe una bella cosa, trovare queste persone che ci diano una mano oltre a quello che dovremmo fare noi sarebbe una bella cosa. Speriamo che qualcuno senta questa richiesta in modo da mettersi a disposizione.